Ciao ragazzi, volevo mostrarvi un altro dei miei lavori su carta. Questo è un progetto per un tatuaggio dedicato a un maschio che vive a contatto con il vento e in prossimità del mare. Ho rappresentato questo volo di uccelli attorno a questo sole. Al centro del sole ci sono queste simbologie che non sto a spiegare qua, servirebbe tempo. Qua ho rappresentato questa maschera di Tiki, come al centro di questo sole, contornato da onde marine e barriere coralline. Qua all'altezza del bicipite ho creato simboli dedicati all'energia e alla forza manuale, alla famiglia. I simboli più intimi del mestiere, all'altezza del gomito. Ho cominciato a rappresentare sull'avambraccio, partire dal gomito, andare verso il polso, tutti i simboli dedicati alla cultura del mare, al lavoro manuale, per arrivare alle mani. Sì, il disegno non è ancora finito, il progetto non è ancora finito. Se siete interessati a conoscere più a riguardo delle simbologie, di come riesco a creare questo tipo di disegni, lasciatemi dei commenti, per favore, e vi auguro buona giornata, buone cose. Grazie, ciao.